Da un po' che volevamo sorridere a fine partita, per via di tante cose non ci siamo riusciti e oggi però abbiamo messo oltre alle gambe, abbiamo messo il cuore in campo, è stata una vittoria voluta, è arrivata in un modo diverso che però era importante farla arrivare. Ci è venuto a trovare in ritiro, sono state delle parole da padre, ci ha confortato, ci ha motivato, ci ha detto che non ci dobbiamo abbattere perché il campionato è lungo, ci vuole tutti bene, quindi il solito papà, parole che ci hanno caricato sicuramente, l'abbiamo ricambiato perché era doveroso farlo oggi. Ci abbiamo provato in queste dieci partite, ci avevamo provato in tutti i modi perché ci sono state diverse partite che eravamo lì a portarla a casa, però tanti episodi contrari che non ci hanno permesso di poterlo fare. Sapevamo che non eravamo, non siamo quelli delle partite scorse, è un campionato difficile che l'abbiamo cominciato in un modo altalenante perché alcune prestazioni sono state positive, senza risultati, però è da motivare, continuare a lavorare perché è solo quello che ci permette di fare le prestazioni come quella di oggi, sicuramente la motivazione nel trovare, nel cercare tutti i costi della vittoria oggi era determinante.